La DIA, direzione investigativa antimafia di Agrigento, ha eseguito un provvedimento di confisca che ha colpito alcuni beni immobili ed immobili riconducibili a Damiano Marrella, 67 anni di Montallegro, uomo d'onore ed elemento di spicco della locale famiglia mafiosa in atto detenuto. Il provvedimento di confisca è stato emesso dalla seconda sezione penale del tribunale di Agrigento e riguarda beni già sottoposti a sequestro con decreto emesso dalla stessa autorità a seguito di dettagliata proposta del procuratore della Repubblica di Palermo che aveva condiviso la risultanza dei complessi accertamenti patrimoniali e bancari svolti a suo tempo da personale della DIA di Agrigento. In passato Marrella era stato tratto in arresto della DIA della città dei tempi nell'ambito di indagini in Minoa unitamente da altre sette persone indagate a vario titolo per partecipazione e concorso in associazione di tipo mafioso ed altro. In particolare gli era stato contestato di aver fatto parte, con il ruolo di capo, della famiglia mafiosa di Montallegro costituendo nella medesima l'articolazione territoriale di riferimento per il rappresentante provinciale di Cosa Nostra e Grigentina pro tempore all'epoca latitante Giuseppe Falsone. In ordine a tali vicende giudiziarie è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione. Con il provvedimento sono stati sottoposti a confisca un immobile sito del Covedi Montallegro e numerose disponibilità finanziarie tra cui fondi comuni di investimenti, conto correnti e altri prodotti bancari intestati a Marrella e i suoi familiari per un valore complessivo stimato in oltre 400.000 euro.